E' vergognoso che dopo quattro anni per un contratto e dopo dodici anni per l'altro contratto si sia ancora qua a protestare. Non siamo stanchi, devono fare cassa con i lavoratori e le lavoratrici, basta. E' inaccettabile che le strutture a livello nazionale di ARIS e AIO non ci abbiano nemmeno convocato per aprire le trattative. Un contratto fermo dal 2018, precedentemente era stato firmato dopo quattordici anni di vacanza contrattuale. Non è accettabile, non possiamo aspettare che i lavoratori che meritano un contratto dignitoso siano in questa situazione. Allora siamo qui a rappresentare l'ennesima vergogna di un mancato rinomi di contratto della sanità privata con contratti fermi dal 31-12-2018 e i contratti di ARIS-RSA e ARIS-IOM fermi dal 2012. Lavoratori che hanno affrontato un'inflazione spaventosa con contratti fermi da oltre dieci anni. Contratti, 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 Cont